malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene oggi voglio farvi un'altra pillola per farvi riflettere su un'altra menzonia dell'economia neoliberista che è l'opposto dell'economia umanistica quello di cui io parlo in questa rubrica per esempio questa mattina guardavo sul sole 24 ore l'ennesimo articolo sul debito pubblico internazionale e molte persone sono spaventate da questi articoli che girano in rete in cui si dice il debito è 200 volte 300 volte il pil del mondo e via discorrendo con una moltiplicazione di dati molto spesso di dubbi attendibilità ma il punto non è la percentuale o la quantità in valore assoluto il punto è il concetto cos'è il pil il pil è insomma la sommatoria del valore monetario di tutti i beni e i servizi e prodotti che sono scambiati all'interno di un certo paese ma anche tenendo conto dei rapporti esteri in una certa unità di tempo per convenzione si sceglie l'anno ora questo non va confuso con il deficit di uno stato che invece un altro concetto il deficit di uno stato è la differenza tra le entrate che si sono date per semplicità diciamo dalle tasse e le uscite per semplicità chiamiamo la spesa pubblica per cui abbiamo due tipi di saldo o positivo o negativo se le entrate sono maggiori delle uscite diremo che abbiamo un surplus se invece le uscite sono maggiori delle entrate parleremo di deficit il deficit pubblico quindi si riferisce a questo dato unitario anno il debito pubblico invece che cos'è è la sommatoria per i che va da 1 n dei tfi dove tf sta per titoli di stati di stato titoli del titolo finanziario del paese no quindi come si finanzia lo stato emettendo dei titoli quei titoli sono titoli del debito pubblico qui e quei titoli naturalmente nell'arco degli anni continuano ad aumentare il loro peso perché è la sommatoria di tutti i deficit che si accumulano e quindi è come dire la visione di una somma di tanti periodi pregressi quindi il debito pubblico italiano oggi è di circa diciamo per esempio 2300 miliardi supponiamo che il pil sia circa 1700 miliardi che cos'è il rapporto debito pil è il rapporto 1700 su 2003 che da diciamo circa un 134 per cento che cos'è questo che cosa vuol dire vuol dire che attenzione è bello è brutto è male è spaventoso non esiste nella letteratura finanziaria un livello oltre il quale non si può andare prova ne sia il fatto per esempio che il giappone ha oltre il 200 per cento ma non c'è nessun problema perché non c'è nessun problema perché è un paese a moneta sovrana cioè ha la cosiddetta sovranità monetaria quindi ciò che conta sono due cose primo capire che la sovranità monetaria è essenziale e secondo capire che se tu tagli la spesa pubblica perché pensi di ridurre il deficit in realtà stai distruggendo mi dispiace dirlo il pil quindi il rapporto debito pil invece di ridursi aumenta è esattamente quello che è successo fino ad oggi rifletteteci perché alle volte le cose sono l'opposto di quello che sembrano buona economia umanistica malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene